Se non è proprio un perdono, poco ci manca. La Vada, l'agenzia mondiale antidoping, ha deciso di non imporre una nuova sospensione all'agenzia antidoping russa Rusada, nonostante un ritardo di due settimane nella consegna dei dati di laboratorio relativi ad alcuni atleti russi e sospettati di uso di sostanze proibite. L'agenzia russa era già stata sospesa nel 2015, dopo che un rapporto commissionato dalla Vada aveva trovato prove del cosiddetto doping di Stato russo, soprattutto in occasione dell'Olimpiade Invernale di Sochi. Riammessa nel settembre 2018 tra mille polemiche, l'agenzia rusada ha sempre negato l'esistenza di un doping di Stato, riconoscendo però le proprie carenze nell'applicazione dei regolamenti antidoping che ha portato all'esclusione di atleti russi sospetti dalle Olimpiadi di Pyeongchang.